Lotta alla droga fin dalle scuole superiori. I carabinieri della compagnia di Cittadella, con il supporto di una squadra di cinofili del nucleo di Torreglia, hanno eseguito lunedì mattina perquisizioni negli istituti superiori Fanoli e Meucci. I controlli, svolti d'intesa con il dirigente scolastico, in un'ottica di prevenzione dell'uso di droghe tra gli adolescenti, hanno interessato gli spazi interni e quelli esterni delle scuole. La nota positiva è l'assenza di droga negli istituti scolastici. Nessuno, infatti, è stato trovato in possesso di stupefacenti, promossi quindi tutti gli alunni.